È sfida vera tra Massimo Cicali e Gianni Lugli nella prima gara dei quarti di finale del Super Pallino Blu. Ieri sera il Fiorentino ha battuto 2-0 il rivale Carpigiano, non senza soffrire, infatti il primo set lo ha conquistato 50-47 in rimonta con un colpo finale molto spettacolare. E in effetti eccoli qua, Cicali vince il primo set con questo colpo da 8 punti. Lugli tenta la risalita e nella ripresa del gioco si porta avanti sul 31-18 ma nuovamente Cicali fa valere il proprio peso tecnico e portandosi sul 33-31 chiude le contese con un colpo magistrale del definitivo 61-39. Nel secondo incontro il Savonese Luca Alpi ha invece incrociato Giuseppe Peruchetti di Brescia. Il Ligure si è portato avanti nel primo set dominato dall'inizio alla fine ma è crollato a seguire permettendo a Lombardo di mutare l'esito della sfida vincendo nel finale per 2-1 con questa giocata. Arriva addirittura il 10, vince Peruchetti, 59-43. Questa sera dalle 21 sul canale 14 il tabellone prevede Andrea Mondi contro Alessandro Naderi ed il campione romagnolo Enrico Rosa sfiderà Carlo Sandrini di Reggio Emilia.